Dovrebbe a questo punto entrare il signor Lucino Iacchetti, ma siccome è in causa con la produzione, io passo la parola al mio avvocato. Bene, bene. Signori giurati, signori della corte, vorrei parlare di quell'uomo Salaroli, uomo senza cuore, produttore senza portafogli. Cos'è nella storia di una trasmissione trentennale? Una pallina Salaroli, due palline! Cosa sono? E via! Consegna! Consegna! Lucino! Marcaccia! Ehi, guardi, grazie, grazie Salaroli! Ma che, ma noi dobbiamo darle al cane le palline!